Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Shadda51 e questa è una prova del nuovo microfono speriamo che si senta bene, altrimenti lo Shadda del futuro bestemmierà nel montaggio di questo video comunque oggi io e la piccola Wendy siamo in direzione città della grande Reggio per due motivi il primo motivo è prendere un pezzo che mannaggia quel satana si è rotto sulla magica Scott e il secondo motivo è procrastinare in quel di Reggio è quasi piena di benzina ed emozioni negative varie la GoPro si prepara a registrare un timelapse dopo un lungo e stressante viaggio sono seduti in questa bestiola bevitrice incallita di benzina ad alto numero di ottani siamo arrivati, mannaio tuoi, noi arrivati panoramico da notare c'è anche l'irrigazione aperta di giorno per cagare il cazzo ai passanti a 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